ambientamento dei coralli in acquario ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati sul canale quest'oggi parleremo di come ambientare i coralli in acquario il video si dividerà in due parti quindi due modi per ambientare coralli secondo modo vi farà un po ridere ma molto molto ricorrente a volte lo faccio anch'io ma lo lasciamo per ultimo perché è più interessante ma probabilmente anche più breve allora per ambientare coralli sappiamo dovremmo sapere comunque che i coralli hanno delle situazioni che vanno a orticare altri quindi nel recipiente in cui andremo ad ambientare coralli che potrebbe essere una piccola bacinellina o un qualcosa del genere cercheremo di mettere i coralli arrivati appena acquistati in questa bacinellina con la loro acqua ne toglieremo un poco e ne metteremo un altro poco questo può essere nell'ordine del 10 20 per cento quindi lasciate poca acqua in questa bacinella che vada comunque a coprire i coralli e pian piano aggiungiamo dell'altra acqua con una caraffa ad esempio un mezzo litro per volta un litro per volta ho parlato di 10 20 per cento ma mia di massima potrebbe essere ogni tanto togliamo un po d'acqua aggiungiamo un po d'acqua quindi togliamo un litro sempre guardando che coralli siano coperti e aggiungiamo un altro litro questa operazione qui non è molto molto diffusa dipende dipende moltissimo sinceramente io oltre ad ambientare i coralli quando arrivano adesso abbiamo avuto un altro grande arrivo ma è un periodo dove si susseguono quindi abbiamo dei coralli già messi dentro qualcuno chiuso ma abbiamo fatto un ambientamento questa mattina e io sinceramente vado a misurare a volte anche dei valori o comunque siccome siamo amici magari con appunto la derivazione di questi coralli chiedo più o meno che valori possono avere in vasca preparo la vasca prima ad arrivarci più vicino come valori teniamo presente normalmente nitrato il fosfato e la triade in linea di massima poi ci sarebbero altre cose che vanno un pochino interagire ma la salinità ma quella più o meno bene o male noi tutti la teniamo molto simile quando parliamo di coralli quindi non è un grosso grosso problema quindi preparo la vasca poi sì se ho tempo eccetera eccetera riesco sicuramente gli faccio un bel ambientamento e poi prendete i pezzi e li mettete in vasca l'ambientamento è finito no non è finito l'ambientamento comincia in quel momento cioè l'animale messo in quella situazione in una nuova vasca nuovi elementi nuovi nuovi veleni perché ogni ogni corallo può rilasciare delle sostanze tossiche anche coralli molli e non crediate ma anche coralli molli a volte in acqua rilasciano parecchio cosa succede da quel momento inizia per me il vero ambientamento chiaramente un tagliario un pochino più difficile perché gli spazi sono limitati lo vedete questo ad esempio in questo caso è pieno e quindi abbiamo poco spazio di manovra per dove sistemare quindi più a favore di luce meno a favore di luce più a favore di corrente meno a favore di corrente contemporaneamente guardare che tutti i coralli non vadano a orticarsi l'un l'altro in base al questione di con specifici o meno a seconda anche lì molte specie tra di loro possono stare vicino altre invece no ci sono un po di cose da andare a guardare ma inia di massimo per non entrare su ogni specie di corallo a spiegarvi e poi lo faremo sicuramente io posizione coralli qui in questo momento non so se si vedono e non si vedranno benissimo comunque ci sono delle catala figlie le ho messe tutte quante vicino normalmente questi animali non hanno problemi di di convivenza tra di loro qui dietro sono arrivate parecchie tra chi figlie vuoi sia figlie sin figlie scolini e via dicendo le metto tutte quante insieme ma per intenderci comunque sia andiamo a posizionare il corallo dove lo vediamo meglio il vostro lo strumento migliore è l'occhiometro come ho detto in altri video per cosa che vi può far ridere anche l'occhiometro perché comunque sia quando guardiamo un animale cerchiamo di capire che stia bene oppure meno e in base a dove lo andremo poi a spostare quindi è preferibile comprare animali che abbiano talee se c'è scusate che abbiano basetta nella talea perché altrimenti diventa poi difficile spostarlo se un gambo di qualcosa e diventa più difficile andarlo a spostare in diverse situazioni questo potrebbe non sembrare ma invece è la scelta più che determinerà il successo di quel corallo della vasca intera insieme ovviamente ma spostare i coralli si in più un'altra cosa alcuni coralli quando li vedete non troppo belli appena messi in vasca dopo qualche giorno ma comunque sia sarebbe opportuno metterli in una situazione o di ombra o comunque sul fondo della vasca affinché abbiano il tempo di riprendersi senza una luce molto molto forte che li vada a sovrastare per esempio dalla metà vasca in su questo tagliario qui io sto parlando comunque sia in questo momento più che altro di coralli moli e delle ps le sps sarà una questione un pochino diversa ma anche se voglio dire qualcosa prende anche su quel discorso la bene la fase 2 dell'ambientamento cioè il secondo modo di ambientare i coralli consiste arrivano i sacchetti li aprite prendete coralli li buttate in vasca che ciò che maggiormente tutti fanno non mi troverete in disaccordo o come sono altre volte molto molto duro su questa opzione perché bisogna dare atto che a volte non capita nulla e quindi secondo me comunque sia l'ambientamento male non gli fa quindi se avete voglia e tempo un piccolo ambientamento fateglielo oppure come 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 detto come seconda seconda opportunità diciamo il secondo modo di ambientare i coralli è quello quindi moltissimi quando arrivano tagliano i sacchetti butti dentro e e via anche in quel caso se in maniera precauzionale andiamo a misurare i valori dell'acqua sia da dove arrivano sia nella nostra vasca avremo una marcia in più perché se i valori sono praticamente identici alla fine anche l'ambientamento risulta più facile o comunque a volte ininfluente bene ragazzi se il video ti è piaciuto vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale stiamo crescendo molto vi ringrazio vi ringrazio tutti qui la tropical mania usciranno un sacco di novità lo vedrete prestissimo ci stiamo impegnando tantissimo grazie a tutti davvero visitate le nostre pagine facebook instagram per richieste commerciali come al solito nella descrizione troverete tutti i nostri indirizzi ciao buon acquario a tutti